incidente sulla strada statale 640 caltanissetta grigento due feriti controlli della polizia nel nisseno nove segnalati all'autorità giudiziaria stasera alle ore 21 nuovo appuntamento con antologia reporter calcio san cataldese rescisso il contratto con di marco la società resterai il nostro capitano ben trovati droga un arresto a caltanissetta ha sequestrato un chilogrammo di hashish la squadra mobile ha tratto in arresto un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti già noto per i suoi precedenti giudiziari mentre transitava a bordo di un'autovettura a seguito della perquisizione del mezzo i poliziotti hanno sequestrato 10 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilogrammo nella fase del controllo il giovane aveva tentato di distrarre gli agenti riferendo che doveva arrecarsi subito al lavoro per alcuni appuntamenti già programmati la sostanza stupefacente analizzata dalla polizia scientifica una volta immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare fino a 10.000 euro l'arresto è stato condotto presso la sua abitazione regime di arresti domiciliari così come disposto dalla procura della repubblica di caltanissetta il giudice per le andagini preliminari all'esito dell'interrogatorio di garanzia ha convalidato l'arresto operato dalla polizia di stato ed applicato la misura della custodia presso il domicilio con il braccialetto elettronico incidente sulla strada statale 640 caltanissetta agrigento due feriti brutto incidente all'ingresso di caltanissetta l'episodio si è verificato questa mattina nei pressi dell'hotel avventura l'incidente ha coinvolto quattro auto ma in particolare lo scontro latero frontale è avvenuto fra due auto una fiat punto che procedeva verso agrigento e una ford focus che andava verso caltanissetta in totale sono due le persone ferite che sono state trasportate subito dall'ambulanza del 118 in codice giallo all'ospedale santelia uno ha riportato contusioni in varie parti del corpo l'altro un trauma cranico ma era cosciente sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i carabinieri insieme alla polizia stradale per eseguire rilevi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente la viabilità intanto in un orario di grande traffico ha subito rallentamenti controlli della polizia nel nisseno nove segnalati all'autorità giudiziaria continua l'attività di prevenzione dei reati da parte della polizia di stato di caltanissetta nel corso dell'attività di controllo del territorio eseguita nel capoluogo in provincia la polizia di stato ha denunciato nove persone all'autorità giudiziaria un ragazzo 19 anni è stato denunciato per ricettazione un uomo di 70 per furto aggravato un 23 anni per evasione dagli arresti domiciliari un 60 anni per detenzione abusiva di armi e munizioni e tre persone per atti persecutori inoltre altre due persone sono state segnalate perché nel corso di due distinte perquisizioni domiciliari nelle loro abitazioni è stata ritrovata della cocaina subito posta sotto sequestro dalla polizia reddito di cittadinanza parla l'ex premier e leader del movimento 5 stelle giuseppe conte a palermo non si ferma il tour di giuseppe conte fra i percettori del reddito di cittadinanza dopo napoli in particolare nel quartiere di scampia il leader del movimento 5 stelle è arrivato a palermo per ribadire la sua vicinanza a chi vive in condizioni di difficoltà e povertà la prima tappa è stata nel quartiere zen dove conta attaccato la politica del governo meloni che vuole addirittura anticipare tagli alla misura detto l'ex premier rendendoli ancora più pesanti è un disegno irragionevole è evidente evidente che laddove non c'è prospettiva lavorativa laddove c'è la fascia di povertà ancora più diffusa e tenete conto che lo svimez per l'anno prossimo sta già prevedendo ulteriori 700 mila poveri nuovi poveri quindi il governo cosa fa addirittura anziché rafforzare preventivare un intervento di protezione ancora più ampio e se mai migliorare invece lì bisogna intervenire sulle politiche attive del lavoro pensa di smantellare questo sistema il leader 5 stelle ha poi sottolineato i cronisti presenti come l'attuale governo dimostri una visione del paese distorta introducendo sconti per gli speculatori evasori e corrotti finendo per accanirsi con la povera gente il già chiuso di conte dopo la campania si declina quindi anche in sicilia dove l'ex premier ha ribadito la sua linea del movimento contro la politica sociale attuata dall'esecutivo nazionale il governo non si rende conto ha proseguito che quelli del reddito di cittadinanza non sono soldi che vengono dispersi ma vengono subito consumati soprattutto in genere alimentari e contribuiscono a far aumentare i consumi ha terminato la visita dell'ex presidente del consiglio nel capoluogo siciliano si è poi conclusa ai danni sinni intervento alla condotta fognaria modifiche temporanee alla viabilità nella zona di piazza europa a caltanissette un intervento alla condotta fognaria alla causa delle modifiche momentanee alla viabilità in piazza europa e non solo la maggiore novità per gli automobilisti che transitano nella zona riguarda via calabria che in questo momento diventa doppio senso di marcia la società che ha la manutenzione della rete fognaria ha comunicato l'esigenza di effettuare un intervento di riparazione alla condotta fognaria nell'intersezione tra via rosso di san secondo con la via gorizia e la via catania i lavori si svolgeranno in due momenti nella giornata di ieri è stato soltanto chiuso il transito del tratto di via catania compreso tra la via rosso di san secondo e la via calabria e hanno fatto un primo intervento nella giornata di oggi e tutta la giornata di domani sarà effettuato il secondo intervento nell'ingrocio con la via gorizia che ha comportato necessariamente di rivedere l'intera viabilità della zona il semaforo è stato spendo di piazza europa la via calabria normalmente percorso a senso unico di marcia è stato disposto il doppio senso di circolazione con il divieto di sosta sul lato della strada per poi effettuare un bypass con il tratto di strada chiuso e riprendere la via rosso di san secondo dopo l'intersezione con la piazza martin lungheria su via calabria questo in estrema sintesi come è stata rimodulata la viabilità stiamo monitorando c'è il personale della polizia municipale presente che attenzione alle eventuali difficoltà e diciamo incordi che nella zona si presentano e ha definito adesso la nostra valutazione la valutazione positiva nel senso che la scelta operata dal punto di vista della viabilità dando le risposte altese un altro intervento era stato eseguito nei giorni scorsi sempre in via calabria la settimana scorsa è stato fatto un intervento su via calabria che ha portato la chiusura della via calabria nel tratto che va da piazza martin lungheria a piazza europa questo intervento è durato un paio di giorni come si prevede che duri questo e anche lì è stata fatta una riparazione sulla condotta fognaria commercio l'idea dell'assessore regionale alle attività produttive un protocollo d'intesa per proiettare le nostre imprese verso cipro e il mediterraneo un protocollo d'intesa tra la camera di commercio italo cipriota e l'assessorato regionale delle attività produttive per lo sviluppo delle imprese siciliane questa è la mia idea che sono certo diventerà realtà a seguito dell'interessante convegno che si è tenuto ieri nella sala conferenza della presidenza della regione in via magliocca palermo lo afferma l'assessore alle attività produttive edita maio al termine della quinta edizione del cipriot italian business forum su internazionalizzazione delle imprese nell'economia del mediterraneo modelli di sviluppo e opportunità di cooperazione transazionale un protocollo aggiunge l'esponente del governo schifani che va nella direzione di un sempre più coerente sviluppo delle relazioni economiche e culturali fra la sicilia e paesi mediterranei con un focus privilegiato sull'isola di cipro l'intesa dovrà essere in grado di garantire un filo diretto con le aree di maggiore interesse per la business community degli stati che si affacciano sul mare nostrum e di assicurare un costante aggiornamento sulle politiche locali e sulle opportunità di investimento fondamentali per le aziende siciliane che mirano a internazionalizzare il proprio giro d'affari nel mediterraneo e verso il medio oriente ringrazio tutti quelli che hanno partecipato all'evento gli imprenditori che hanno portato le loro testimonianze il console onorario della repubblica di cipro sebastiano provenzano e il presidente della camera di commercio italo cipriota giuseppe marino covid un corso d'aggiornamento all'ordine dei medici di caltanissetta l'attenzione nei confronti della pandemia da parte della medicina continua a essere massima in quest'ottica la tematica covid 19 sarà uno dei temi discussi nel corso del prossimo incontro organizzato dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di caltanissetta sabato 17 dicembre infatti a partire dalle otto i medici chirurghi si incontreranno nell'aula magna del consorzio universitario di caltanissetta in corso vittorio emanuele per un corso di aggiornamento in pneumologia dal titolo le opacità polmonare e l'insufficienza respiratoria esperienze cliniche in epoca covid il corso è accreditato presso il ministero della salute e al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l'indicazione dei crediti formativi attribuiti dalla commissione ecm i partecipanti inoltre dovranno anche compilare un questionario di valutazione insieme ai professionisti esperti del settore verranno approfonditi diversi aspetti che riguardano l'ambito della pneumologia dell'impatto del covid 19 sulla gestione della malattia neoplastica all'evoluzione storica della terapia nel tumore polmonare metastatico l'eredità di falcone e borsellino una mostra fotografica al rapisardi di caltanissetta l'eredità di falcone e borsellino la mostra fotografica del lanza nata dieci anni fa e poi aggiornata che parla dei due giudici giovanni falcone paolo borsellino arriva anche a rapisardi da vinci di caltanissetta nella sede di via le regina margherita i pannelli che raccontano la vita dei due giudici e il loro impegno attraverso le parole le foto alcune persone in bianco e nero sono stati esposti proprio vicino all'aula magna luogo in cui è stata data ai ragazzi e alle ragazze della scuola la possibilità di visionare anche il docufilm sempre del lanza che comprende anche alcune testimonianze di chi li ha conosciuti la mostra è stata inaugurata il 14 dicembre in presenza anche delle autorità la nostra scuola è una scuola che è vocata diciamo a proprio seguire cioè a fare in modo che i ragazzi possano apprendere la legalità sin da questi momenti perché il momento della scuola secondaria di secondo grado è un momento altamente formativo e quindi noi abbiamo voluto far sì che al di là della fruizione della mostra potessero essere offerti ai nostri studenti anche degli autorevoli diciamo degli autorevoli interventi da parte di appunto di autorevoli relatori che hanno comunque vissuto cioè questi per questo periodo storico buio per la nostra diciamo per la nostra terra ma anche per la nostra civiltà giuridica ci siamo fatti carico di seminare all'interno delle scuole del nisseno questa bella eredità che ci hanno lasciato i grandi falcone e borsellino lo stiamo facendo con questa mostra la cui proprietà è dell'anza che ha girato i capoluoghi praticamente di tutta italia ora sta girando in provincia di calta nissetta e questa la terza scuola dove la mostra farà tappa fino all'anno nuovo parla di riflessione sui due concetti in particolare la presidente della corte d'appello di calta nissetta mare grazia vagliasindi il primo il rispetto per l'altro il secondo l'educazione che è affinamento delle virtù morali probabilmente se i giovani riflettessero su questo e sotto questo profilo la scuola è fondamentale ma la scuola è la base perché spesso ha una funzione che addirittura è una funzione vicaria e rispetto alla famiglia posto che la famiglia è la base assoluta ma quando la famiglia non c'è perché non ci può essere e in determinati contesti questo accade con un'invasività straordinaria ecco che la scuola ridefinisce ancora una volta il suo ruolo di straordinaria valenza nel rafforzamento di quelli che sono i valori etici valori che eccedono la legalità perché laddove c'è l'etica quindi la scelta di un progetto di rispetto non ci può essere spazio per l'illegalità e soprattutto non ci può essere spazio per la morte lega italiana per la lotta contro i tumori insieme cerchiamo l'invisibile un calendario con le pallavoliste dell'alba verde di calta nissetta si chiama insieme cerchiamo l'invisibile il titolo di presentazione del calendario 2023 della lilt lega italiana per la lotta ai tumori che vedrà protagoniste le pallavoliste dell'alba verde calta nissetta è un invito alla prevenzione affinché entri nella quotidianità di ciascuno con normalità si terrà sabato 17 alle ore 10 nella sede della lilt in viale della regione 30 la presentazione del calendario dove vengono immortalate le pallavoliste dell'alba verde e i fondi verranno finalizzati all'acquisto di nuovi strumentazioni diagnostiche alla presentazione prenderanno parte il presidente della lilt di calta nissetta aldo amico la presidente dell'alba verde calta nissetta oriana mannella l'assessore regionale alla salute giovanna volo e l'assessore comunale cetina andaloro marocco fermato dalla francia i mondiali la delusione della comunità magrebina nissena che ora spera nel terzo posto il sogno del marocco si ferma alla semifinale del mondiale in catar contro la nettamente più forte francia la squadra di valide regra qui si è resa protagonista di un percorso clamoroso ed inaspettato raggiungendo comunque un traguardo storico per la selezione marocchina nonostante la delusione e le lacrime dopo il triplice fischio i giocatori hanno comunque voluto omaggiare i loro tifosi hachimi ziec e compagni si sono infatti incinocchiati per una preghiera da là verso i tifosi gesto con cui hanno festeggiato le loro vittorie e che hanno voluto riproporre anche dopo la semifinale persa adesso li aspetta la finalina del terzo posto contro la croazia la comunità magrebina di calta nissetta ha vissuto serate di gioia e festeggiamenti di un popolo estasiato dalle gesta della sua nazionale calcio serie di san cataldese rescisso il contratto con salvatore di marco capitano della squadra verde maranto dopo 22 anni le strade fra la san cataldese lo storico capitano salvatore di marco si separano è la stessa società tramite una nota a comunicare la rescissione del contratto di comune accordo con il calciatore ringraziandolo per tutto ciò che ha dato alla maglia e al quale auguriamo una pronta ripresa resterà il nostro capitano scrive la società ricordo quel giorno come se fosse ora avevo sette anni e vidi per la prima volta il valentino mazzola non lo avrei mai detto che sarebbe diventata la mia casa per ben 22 anni entrai nella famiglia verde maranto giocando nelle file delle giovanili avevo solo un desiderio o meglio un sogno quello di diventare il capitano della san cataldese inizia così il saluto di di marco ai tifosi la passione la dedizione a questo sport e l'amore infinito verso la maglia verde maranto continua sono stati motivo e voglia di andare sempre avanti ho vissuto una vera favola il capitano verde maranto ha concluso ringraziando tutti gli allenatori incontrati durante il percorso i presidenti e i compagni ma il pensiero speciale quello finale lo ha rivolto a tutti i tifosi della san cataldese a cui va il mio pensiero dice prima durante e dopo la partita è stato sempre un piacere combattere per voi sempre solo forza san cataldese il vostro totò ha concluso è tutto vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni ben trovati a un aggiornamento con le previsioni per questa giornata di venerdì 16 dicembre che vedrà ancora il mediterraneo avvolto da un'ampia circolazione di bassa pressione qui transiteranno nuovi impulsi perturbati dall'oceano proprio verso il mediterraneo centrale l'anticiclo ne rimarrà oltre alpe nel dettaglio quindi possiamo notare come la giornata di venerdì sarà con molta nuvolosità e ancora delle precipitazioni più probabili sul versante tirrenico regioni centrali e nord est in sintesi la mappa dell'italia per confermarci questa giornata inaffidabile sul nord est e sul versante tirrenico comunque tra sardegna regioni centrali qualche fenomeno anche sul basso versante tirrenico meglio invece sul basso adriatico ed il versante ionico tra l'altro sulla sicilia ancora clima molto umite per i venti da sud tutti i dettagli precisi li trovate scaricando l'app gratuita di tradvi meteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno caltanissetta servizio diurno la china via fraggia ratana servizio notturno marrocco via rosso di san secondo servizio non Grazie a tutti.